Direi che possiamo cominciare il nostro appuntamento di presentazione del libro Il caso Crespi di Marco Del Freo, dando la parola per un quadro introduttivo a Gianni Rubagotti, che ringrazio moltissimo intanto della sollecitazione dell'idea e poi di essere disponibile qua con noi questa sera per aprire questo dibattito su un tema che sollecita una riflessione sui temi della giustizia e delle ingiustizie della giustizia italiana. A te la parola Gianni per l'introduzione. Grazie innanzitutto a voi che avete accettato quello che vi propongo. A seguito dello stalking che ho fatto a Boni avete accettato di fare questa presentazione. Io sono segretario di un'associazione radicale microscopica o di quello che ne rimane l'associazione per l'iniziativa radicale Mirian Cazzavillanna. Questa presentazione fa parte di una piccola serie di presentazioni che nasce dalla prima cosa che ho voluto fare, ho voluto proporre, quando Ambrogio è stato arrestato. Ho pensato che la prima cosa che bisogna fare è abbiamo già il libro, non abbiamo altre cose pronte per parlare di questo, quindi promuoviamo delle presentazioni del libro anche in gruppi non molto grandi. Le altre due sono state Feedback e Dialoghi, che è una pagina Facebook connessa al popolo della famiglia, e quella della Tortora. Nelle altre non sono voluto apparire, anche se ero stato invitato, lo dico per correttezza, perché, mettiamola così, avevo la forte sensazione di servirmi della causa invece di servire la causa, apparendo. Igor ha insistito molto, per cui ho umanamente ceduto, anche perché di solito si insiste perché io non parli e non perché io parli, quindi effettivamente sono vulnerabile. Non parlavo anche perché io non vi posso dare un quadro giuridico da tecnico, per questo ci sarà l'avvocato Berni, che è qui vicino a me, che mi ospita, che ha anche organizzato una presentazione del libro con Michele Saponara, che è presente sull'archivio di Radio Radicale, una cosa molto più tecnica. Io di Crespi vi posso dire come lo conosco oramai da cinque anni, quindi posso parlarvi non dell'imputato, ma dell'uomo Crespi. E mi sono preparato qualche appunto perché sarebbero tante le cose da dire. La prima cosa che vi dico è, se andate sulla pagina del Comitato Crespi, vedete foto dove lui è molto rabbuiato. No, Crespi innanzitutto è sorriso, voglia di ridere, di scherzare, anche una risata bella fragorosa e ovviamente quando si è consegnato al carcere di opera non era lì vestito da clown a festeggiare, questo è normale, ma io vi parlo della frequentazione di cinque anni, è una persona molto, tra l'altro la vita a Roma lo ha anche aiutato in questo senso molto, molto ironica. È anche una persona capace di grandi incazzature, magari che finiscono dopo un po', ma la nostra amicizia in fondo è nata dopo 20 minuti di scontro, fatto al telefono e c'era stata una presentazione, io l'avevo vista, una presentazione a Monza del docufilm su Enzo Tortora, ne ho poi organizzata una a Paderno Dugnano, che è il comune dove vivo, da quella la moglie di Renzo Villa, che era socio di Enzo Tortora in Antenna 3, ne ha organizzata un'altra e a seguito di quella c'è una cosa che secondo me non funzionava e ci sono stati 20 minuti di scontro. Al termine di quei 20 minuti di scontro siamo arrivati al punto che abbiamo capito che volevamo portare tutte e due avanti quest'opera, che per lui era molto importante e lui con la sua vicenda giudiziaria che era già iniziata si è sentito molto vicino a Tortora, anche se non voleva essere accomunato a lui, ci teneva molto a distinguere, a distinguere a qualche modo non sovrapporsi alla figura di Tortora. Allora abbiamo iniziato con una serie di presentazioni, di proiezioni del film. Io vi cito quella a Verona, che è stata una cosa molto divertente perché abbiamo cenato in una bella cascina su Lundadige, offerta gentilmente dal comune perché avevo rotto le scatole a Pasetto, che allora era consigliere comunale a Verona, e poi siamo usciti e c'era la piazza piena di giornalisti perché era arrivato Tosi, allora sindaco di Verona, e quello era il giorno in cui Tosi era stato non espulso ma cancellato dalla Lega, quindi avevamo la sala strapiena di gente che era lì anche per quello, però comunque c'erano cento persone in sala che hanno visto il docufilm e Tosi è intervenuto insieme a Pasetto, insieme a Crespi, a Crespi è piaciuto molto quella serata. Nel frattempo l'associazione Enzo Tortora aveva boicottato il film per ragioni che per brevità non vi dico ma secondo me sono abbastanza futili e poi la cosa è rientrata, però naturalmente vabbè io sono molto bravo a tirarmi le simpatie nell'associazione dove mi scrivo. Ha fatto una serie di cose del genere, ho portato una mozione al congresso dei radicali italiani del 2015 in cui si ringraziavano i comuni che avevano proiettato il docufilm ed è passata al 70% se non oltre, da lì è nata un tour in cui anche la Lietta, tra l'altro finanziando le spese di viaggio di Crespi con 500 euro, bisogna ricordarlo, ma Andrea Maori ha scoperto il docufilm su Tortora con quel tour che ha girato tutta l'Italia, organizzato da radicali italiani. Fatto questo ho anche portato Spes Contra Spen che è l'altra opera che ha fatto Crespi, anche se in realtà nel frattempo ce ne sono altre che non cito stasera, lui come Malaterra e altre, e l'ho portato nelle carceri. Ok. Crespi, ecco, gli appunti non erano chiari. Crespi è queste cose, ma è anche la persona a cui ho telefonato dopo due delusioni importanti in politica, quando c'è stata un'assemblea della Tortora a cui ero iscritto, in cui con Pannella, non mi ricordo se in ciopera della fame o della sete per la giustizia, nella mozione non era stato messo nulla sulla giustizia. Dopo il congresso del partito radicale, quello italiano, a Napoli. Difatti dopo quel congresso me ne sono andato. Io ho telefonato a lui, è la prima persona a cui ho telefonato. Questo secondo me dice già qualcosina su di lui. Ma ci sono due cose, due cose che sono in corso, che spero diventino due libri di Crespi. Uno, il libro che raccoglierà le lettere che ha mandato dal carcere. Ce n'è già una mandata alla moglie e secondo me potrebbe essere... Adesso il paragone con quelle lettere dal carcere di Tortora sembra irriverente, ma io dico che potrebbe non essere lontano da quello. Ma c'è un'altra cosa che io dico che potrebbe essere addirittura meglio delle lettere dal carcere di Tortora. Potrebbe colpire di più, perché esattamente come il docufilm su Tortora, in un'epoca dove la gente ragiona di pancia, parla col cuore e quindi poi parla al cuore, col cuore, e quindi permette di arrivare alla testa. Lui, per evitare che i bambini soffrissero a dei figli per la sua detenzione, si è inventato che è in missione segreta. Quindi ha già mandato una lettera per raccontare ai suoi figli le sue prime avventure in missione segreta e si è presente su Facebook con anche dei disegni. Io credo che quest'idea del padre, che evita questa sofferenza ai figli, inventandosi una storia a parte, potrebbe essere un bellissimo film. Secondo me dice molto su di lui e su perché in fondo è innocente, perché dimostra che in fondo anche Ambrogio è rimasto un bambino. Sì, è un adulto, ma questa componente di creativa, esplosiva, anche irriverente, sta poco insieme all'idea del capo mafioso, che nella letteratura, ma anche nella pratica, è una cosa un po' diversa. Qualcuno diceva, chi pertanto si farà piccolo come questo bambino sarà lui il più grande nel regno dei cieli. E con questo adesso parliamo del libro. Grazie mille Gianni per questi tuoi ricordi personali, per questo percorso introduttivo. Io direi che possiamo entrare nel merito del libro e del caso, Crespi, perché io immagino che chi ci sta ascoltando e chi ci ascolterà, perché poi questo video resterà a disposizione, registrato sulle nostre pagine, magari non conosce la vicenda e credo che sia importante a grandi linee, almeno ripercorrere quello che è successo e perché si è arrivati a questa condanna di sei anni, se non sbaglio, per concorso esterno rispetto alle questioni. Il famoso combinato disposto. Esattamente. Ma io direi, insomma, non la faccio lunga, dico solo che con Ambrogio Crespi, come ricordava Rubagotti, abbiamo presentato in un'aula, in una sala gremita a Torino, nel Palazzo Comunale, il docufilm su Enzo Tortoro, una ferita italiana, e ovviamente abbiamo assistito più volte al film Spess contra Spem, che è stato, se non sbaglio, proiettato anche nell'aula stessa del Consiglio regionale. Quindi, insomma, c'è un percorso politico di condivisione che non è recente, anzi, ma che si perde, insomma, nel tempo lontano. Però, a parte questo percorso, entriamo nella vicenda di Ambrogio Crespi con Marco Del Freo, che è autore del libro Il caso Crespi, al quale do volentieri la parola per raccontarci del perché di questo libro e della sua opinione su questa vicenda. Dice altro, credo, come dicevi giustamente tu, magari per dire in due parole che cosa è successo. Purtroppo, in realtà, non sono due parole, sono 12 anni. Ambrogio Crespi è stato arrestato perché, vado a memoria, per cui perdonatemi le date, perché in realtà questo è un libro che ormai è morto, nel senso che sta parlando delle motivazioni delle prime due sentenze. Non ho voluto parlare del caso Crespi, che ho voluto parlare del caso Motivazione delle Sentenze, perché ho seguito e letto quelle che, secondo l'articolo 111 della Costituzione, devono essere alla base di qualsiasi atto amministrativo. Quindi cosa succede? Lui è stato arrestato perché alcuni personaggi, piuttosto, vedremo magari poi dopo, curiosi, nel 2012 sono stati intercettati parlando a proposito di un'elezione che lo comunale in un paesino vicino a Milano, perché questi personaggi dicevano, ma sì, guarda, se riusciamo a fare eleggere questa nostra amica, poi ci va tutto bene, facciamo questo, facciamo quest'altro, e l'altro dice, ma perché allora non chiediamo, sai, a quel tuo amico, quell'Ambrogio Crespi, che ci ha dato i voti e i tempi nel 2010, delle elezioni invece regionali per Zambetti, Casio, quindi Zambetti e in realtà poi Formigoni. Questi signori parlano tra di loro, a questo punto si accende, viene attenzionato anche Ambrogio, usano il suo nome, e viene intercettato, se non va del rato mi pare ne abbiano detto per tre mesi, lui, la sua voce in tutte le motivazioni, quindi in tutti gli esoconti di quello che ha portato i giudici a condannarlo prima a 12 anni, poi a 6 e poi in Cassazione a vedere una conferma a 6 anni, viene sentito tre volte, la sua voce si sente tre volte, viene citata in motivazione tre volte. Parla con una persona che ha conosciuto perché insieme a Radicali lavorò per far uscire il padre di questo Gugliotta, si chiama, di Galera perché stava morendo, infatti dopo un mese dalla sua liberazione è morto di tumore. Questo signore lo ha chiamato chiedendogli aiuto, appunto, dicendo mi dai una mano per questa, le parole sono importanti, penso che non sta facendo cose strane, ti do dei soldi per, no, mi dai una mano perché c'è questa nostra persona che conosciamo e Ambrogio risponde più o meno testualmente dicendo ma sì posso farti una cosa, perché ormai siamo troppo sotto, mancavano una decina di giorni, credo, alle elezioni, posso farti uscire una intervista, posso fare magari, vedere se pubblico qualche articolo, però sai io adesso sono in Albania, sto lavorando per il Premier, per le elezioni qua e quindi non so, se ce la faccio magari vediamo settimana prossima, se faccio un passo da Milano, ne parliamo, vediamo un po'. Questa è la prima telefonata, la seconda telefonata, ce n'era una che non c'entrava niente, la seconda telefonata lui dice senti non ce la faccio, facciamo finita, non faccio nulla, punto. Il risultato di quest'unica voce che si sente di Ambrogio è 12 anni di galera, questo è il succo vero della questione, ovvero il famoso problemino che noi abbiamo un paese in cui, visto che abbiamo preso solo una parte del processo accusatorio di stile anglosassone americano in particolare, abbiamo fatto del casino, tanto per cambiare, questo è il mio parere personale che non è espresso nel libro, nel libro mi faccio soltanto il vecchio cronista che va a sfrucugliare i dati e quindi cosa succede? Che la prova si deve formare in udienza davanti in America alla giuria, qui davanti al tribunale, le intercettazioni secondo l'articolo, adesso non te lo dico se vuoi guardare sul libro qual è, per poter essere assunte come fonte diretta di prova devono rispondere a quattro aspetti, aspetti particolari, l'ultimo dei quali è quello che le persone, vabbè, i tizi devono sapere essere intercettati, devono dimostrare, devi sapere che questi non hanno interessi particolari, questa è una cosa curiosa, insomma comunque ti devi fidare di questa gente e del fatto che stanno parlando di una terza persona in qualche motivo, a quel punto se queste condizioni sono rispettate l'intercettazione diventa fonte diretta di prova, ovvero è come aver trovato la pistola fumante. Se volete posso prendere dal libro alcune delle frasi che sono state dette in quel contesto, che sono piuttosto divertenti, purtroppo hanno avuto un esito drammatico, sarebbero ridicole, e il dato di fatto che rimane è che c'è questo signor Gugliotta, che sarebbe quindi uno degli autori di queste telefonate, personaggio, anche qua stiamo parlando, sembra che stiamo parlando dei grandi capi della mafia, in realtà l'altro di cui parlerò tra un attimo ha avuto anche dei problemi in carcere, proprio perché ha usato dei nomi che non avrebbe dovuto usare, dei grandi nomi dell'Andrangheta in particolare, questo Gugliotta è talmente spiantato che dice in una delle intercettazioni che vengono riportate in motivazione, quindi ribadisco, quella è la realtà, cioè la motivazione in Italia, adesso poi c'è chi giustamente poi dirà e ricorderà perché è un avvocato oppure bravo, ma la motivazione pretende che il giudice mostri il percorso logico giuridico attraverso il quale è giunto a sentenza e quindi deve dirmi cosa ha detto l'accusa, cosa ha detto la difesa e anche se magari è folle deve dirmi ok ho caduto la difesa, sono convinto che questo fa parte del concetto del perché lui è il giudice e non noi. Il problemino è che questo Gugliotta, scusate, torna bomba, dichiara chiaramente che è uno spiantato spiantatissimo, che non riesce a portare la brioche alla mattina ai bambini, temo, mi sa che usi proprio questo esempio a un certo punto, e che guarda caso si può far bello dell'amicizia con Crespi, si può far bello perché Crespi appunto lo ha aiutato grazie insieme ai radicali a far uscire suo padre, quindi lui dice che sì, come ha fatto quella volta, gli parlo io e poi dopo facciamo due squadre, io e Crespi, questo non c'è mai la voce di Crespi in tutto questo, sono sempre i signori che parlano, Costantino di cui dirò tra poco e Gugliotta con un altro, per Agostino, tutta una serie di altri personaggi e dice no no ma facciamo due squadre, così poi ci dividiamo quello che ci danno, io poi faccio i conti con Crespi, per inciso, sia Gugliotta che Costantino che tutti quanti dicono che Crespi non ha mai preso un soldo, per inciso, nemmeno nel 2010, teniamo anche presente quindi questo problema perché poi quello che vuole arrivare è un altro discorso che come sta dimostrando anche Draghi adesso è quello più importante, e quindi questo signore un po' di interessi li avrebbe, e quindi già per questo la sua testimonianza non dovrebbe valere un gran che, però lasciamo stare. Parliamo invece di Costantino, Costantino che è quello che parla di più, che racconta, che fa, che briga, che dice, eccetera, eccetera, che è uno che dice, ma sai sono al giudice, io sono un po' medium, io queste cose le sento perché sa, io fin da quando ero un bambino ho questa persona con cui parlo, Rupert credo che si chiamasse, che mi spiega che cosa devo fare, e tutto su questo tono, non sto scherzando, e questo è un testimone per il quale si manda una persona a 12 anni in galera, non solo a questo proposito, perché questo è soltanto Mattarello, un po' zuzzerellone, il punto è che a crederlo Mattarello, in un altro processo, è proprio l'accusa che lo ricusa come testimone perché non è affidabile, ma anche il Tribunale stesso, perché a un certo punto quando lo manda in galera, visto che viene richiesta da parte del Tribunale, quindi non da parte della difesa, non da parte del Pubblico Ministero, ma da parte del Tribunale, viene richiesta una perizia su questo signore, la perizia dice che il signore è Mattarello, ma Mattarello di brutto, questo signore non fa nemmeno la pena in carcere, ma la fa in un'istituzione di quelle che servono per le persone un po' mattarelle. Questi due signori sono l'origine di una condanna ai 12 anni, non c'è altro, perché di nuovo io mi sono letto le famose 483 pagine, se vado anche questa memoria, della sentenza di primo grado, le famose altre 400 rotte, 300 rotte della seconda sentenza d'appello, non c'è niente e tenete presente che a norma di legge lì ci deve essere, quindi poi possiamo essere d'accordo o meno sul fatto che il giudice arrivi a seguendo il suo percorso logico e giuridico, ma i dati ci devono essere, non ci sono, non ci sono proprio, nel senso che dal mio punto di vista la povero ignorante di giustizie, sono stato assistito da tre avvocati nella legge di questa cosa, quindi io ignorante, loro sicuramente no, quindi di nuovo al solito come giusto che sia, le colpe sono mie, ma le cose buone sono loro, questo signore ne ha detto di tutti i colori, ma per esempio non viene detto in motivazione un piccolo particolare, che questo signore dopo aver stato intercettato, dopo aver stato in udienza, quindi io sono andato a cercarla poi negli atti delle udienze, quindi non mi sono letto soltanto quel milione di pagine, mi sono andate molto di più, non viene riportato in motivazione nella sentenza di primo grado e quindi non viene ripresa in appello, il fatto che Costantino dice chiaramente, parola per parola se volete ve la leggo, io a questo ambrogio ho fatto un gran male perché mi sono inventato tutto, io a questa persona gli chiedo scusa, scusate, a me pare di ricordare che sì, no, il testimone principale dell'accusa dice che si è inventato tutto, però 12 anni di galera e via ragionando, allora questo è quello che è successo, sono i dati se volete dal libro, ah una cosa per inciso, scusate, visto che l'ha citata prima Gianni, l'associazione che abbiamo costituito insieme a nessuno tocchicaino per sostenere tutto quello che sta accadendo intorno ad Ambrogio adesso e prima, da il libro in maniera gratuita, cioè se andate sul sito è gratuito, io ho chiesto che il libro fosse venduto gratuitamente, ceduto gratuitamente, qualcuno, non faccio nomi perché poi adesso si salteranno in ballo colleghi degli amici che parleranno dopo di me, sta continuando a venderlo su Amazon, non prendetelo su Amazon perché lo pagate, andate sul sito dell'associazione e lo prendete gratuitamente se siete interessati, lì ci sono gli atti del processo che sono quelli che contano e a questo punto la cosa che secondo me è importante, visto che ormai la Cassazione ha, il ciclo è terminato, io penso che la cosa fondamentale di un caso come quello di Ambrogio, che è eclatante per molti versi, perché può richiamare di tutto, per esempio le intercettazioni, vado a memoria, nel 2017 senza nessuna fatica, al contrario di quello che è stato fatto per l'Italia, trovo i dati sulle intercettazioni negli Stati Uniti e in Italia, in Italia se non vado errato di nuovo sono 148 mila nel 2017 ed erano già in discesa per fortuna, in America 3.800. Noi siamo 60 milioni di persone e loro sono 350 milioni di persone, così tanto per dare un'idea, più le regole per le quali e come vengono svolte le intercettazioni degli Stati Uniti e in Italia, autorizzate la magistratura, poi ci sono le altre. Quindi il punto vero è che sono tutte le parti in commedia che dovrebbero ribellarsi al fatto che qualcuno, secondo me, questo, tanto qui non so, non faccio mai soltanto il, racconto la mia come ho fatto in un capitolo nel libro, cioè dico adesso mi diverto, faccio il giallista come ho fatto sul serio in altri momenti, il problema vero è che tutte le parti in commedia non se la prendono con chi scrive le leggi, perché c'è poco da dire, c'è il giudice corrotto, c'è l'avvocato stronz, scusatemi le parolacce, c'è l'avvocato poco serio, c'è il pubblico ministero che vuole fare carriera, ma la realtà è che noi ci dimentichiamo come una sorta di imperativo categorico troppo distante nel tempo, la domanda principale che è quella di giustizia, cioè di sapere che qualcuno in tempi ragionevoli va a vedere come stanno le cose e dice questo sì, questo no, ma vi rendete conto che Ambrosio è stato condannato per un reato per il quale non c'è una legge, il concorso esterno non esiste, è il combinato disposto di natura esclusivamente, è nato nei tribunali, nel combinato disposto tra il famoso articolo 110 e il famoso 416 bis, e di nuovo se ve li leggete c'è tutto da ridere, perché per esempio quando ci siamo incontrati con Saponale e con gli altri era buffo, perché il voto di scambio, non è 416 che è quell'associazione, ma il voto di scambio prevede il fatto, per come è scritta la legge, che se io sto chiacchierando con mia figlia che vive in Toscana e mi dice, ma perché ho adesso detto, ma forse vieni qua, perché non vieni a vivere qui, che c'è nostro cugino che si presenta alle elezioni, e allora potresti dargli il voto. Se dice questa cosa in un bar e aggiunge il fatto che, ah è così ti pago il caffè e lì di fianco c'è un carabiniere, un poliziotto, per il combinato disposto del fatto che oltretutto noi siamo un paese demente in cui esiste l'obbligatorietà dell'azione penale, che non ha senso, che è un'illusione gentiliana di riuscire ad adattare la realtà ai nostri desiderata, io vado in galera, ma ci credo anche lei, perché la legge dice che la sola promessa dello scambio per una qualsiasi utilità, anche il caffè è un'utilità, quindi questo è quello di cui stiamo discutendo e in cui dovremmo usare, e Ambrogio ha accettato con un coraggio e con il sorriso, perché noi lo sentiamo e lo sappiamo attraverso l'EN con l'associazione, ci riuniamo una volta in due giorni, ha accettato con il coraggio e con il sorriso di diventare il simbolo, perché il suo caso contiene tutti i casi, per esempio di cui ha parlato Draghi, nella cosuccia che ha appena mandato per farci dare tutti quei bei soldini, dove la Cantabria, non mi ricordo mai come si dice, chiedo perdono, ha l'accento sballato, no l'accento giusto sono io che non me lo ricordo, dice giustamente che se non va in porto la riforma della giustizia come è stata proposta, salta il finanziamento, non ci arrivano tutti i soldi, quindi vuol dire che questo, e l'ha detto giustamente Draghi, deve essere un punto fondamentale, perché se non cambiamo alcune cosucce, tipo, anche se è contenuto in Costituzione, se voi andate a leggere che cosa ha scritto, per esempio sull'obbligatorietà dell'azione legale, ci sono mucche di belle frasette, di quelle da, sembra politico serio, quelle di una volta, che fa sì, che in realtà forse non c'è, non c'è più, vogliamo parlare dell'utilizzo, a me fa impazzire tutto quello che ha a che fare con i fallimenti, e lui giustamente fa notare che se facciamo alcune cosucce, per esempio il fatto che se si riuscisse a diminuire il 50% il tempo dei processi, vorrebbe dire un 1.6% in più del PIL, cioè questo signore dà i numeri nel senso finalmente buono, e parte tutto dalla giustizia, il fatto che finalmente, altro fatto che noi non abbiamo copiato quando abbiamo preso le cose del processo accusatorio, che per iniziare un processo la persona accusata deve sapere che questa cosa viene fatta, deve sapere personalmente, presente nei film americani quando arriva di corsa il tizio che ti dà served, ti dà in mano l'aggeggio, per cui è sicuro che tu sai, perché quanta gente finisce dentro nel processo senza nemmeno saperlo, per esempio, quindi il tema di Ambrogio Crespi non è più il caso Crespi, è il caso giustizia, è l'uso che Ambrogio ha accettato che noi facessimo, noi tutti, chiunque lo voglia fare, del suo caso, della sua persona, del suo corpo, perché lui poverino è in galera e non è un poverino, perché lì sapendo cosa sta facendo, sta lavorando nel carcere di opera insieme a nessuno tocchicaino, sta facendo i corsi, sta lavorando con, pensate all'ostattività, per esempio, cioè il fatto che questa gente non può, è veramente follia, siamo stati ricondannati per l'ennesima volta, addirittura la Corte Costituzionale ha detto che stiamo dando ai numeri e tutti questi, gli agenti fondamentali, quindi l'Avvocato della Difesa, il Procuratore e i giudici, stanno litigando tra di loro, quelli se li stiamo parlando, no, ma in generale, invece di andare in Parlamento e dire ragazzi vogliamo muovere il culo e svegliarci, perché è tutto qui il punto, le leggi vanno scritte da qualcuno che sa come scriverle, che ha le idee chiare e che smette di accumulare, cioè io sono un povero tonto, ma per riuscire a leggere dieci, ma vi rendete conto che io per leggere mille pagine ci ho messo quattro mesi, quando io leggo normalmente un libro di 300 pagine in due giorni? Perché ho cercato di capire che cosa ha voluto dire, ha voluto dire che ogni volta che uno mi dice una roba, l'articolo tal dettaglio, devo scoprire che l'articolo tal dettaglio, c'è una parola che è stata modificata con l'articolo tal dettaglio di un'altra legge, di un'altra, abbiamo ancora il codice Rocco, l'articolo 416b, se ancora il 1930, codice Rocco, scusate mi scaldo, ho smesso, finito. Intanto ti ringrazio Marco, ci sarà sicuramente un altro intervento, almeno te lo facciamo fare, intanto io metto una domanda rispetto al processo, dal primo al secondo grado Ambrogio è passato da una condanna a 12 anni e una condanna a 6 anni, mi interessa sapere perché. È la condanna che era stata richiesta nel primo grado dal procuratore. Ah, d'accordo, ok. Era stato il tribunale a portarla a 12 perché, poi non andiamo lì, perché poi veramente andiamo in cose dove io come cronista posso fare quello che ho fatto adesso, cioè esprimere le mie opinioni, ma poi non voglio andare dentro queste cose, lo possono sapere, cioè il mio libretto, che è una robina piccolina così, ha comunque la prefazione di un Presidente onorevole del Corte di Cassazione, che dice, nei modi in cui può dirlo, che queste sentenze non stanno in piedi. Punto. Alfonso Giordano, lo citiamo così. Eh certo, sì, scusami. No, no, Alfonso Giordano che ha fatto la prefazione del libro. Ma io, ovviamente, ti ho ascoltato in modo molto attento e credo che di nuovo siamo di fronte a un caso che appunto non rappresenta il caso di Ambrogio Crespi, ma rappresenta il caso della mala giustizia italiana, della giustizia ingiusta italiana, di una giustizia ingiusta che da radicale abbiamo tentato in ogni modo in questo mezzo secolo e più di modificare, di correggere, perché molti degli aspetti che tu Marco dicevi nel tuo intervento, dall'abolizione dell'obbligo dell'azione penale, dalla questione legata più in generale della giustizia. Io ho ripercorso i miei decenni di iniziativa radicale su questi temi. Io sono diventato radicale mentre c'era il caso Tortora, quindi raccoglievamo le firme sulla responsabilità civile dei magistrati. Io ho preso gli sberloni dal mio padre col caso Valpreda. Eh, vedi, ancora di più. Quindi dalla responsabilità civile dei magistrati alla separazione delle carriere, all'abolizione degli incarichi extragiudiziari, all'abolizione, alla modifica del sistema elettorale proporzionale del CSM che ripercorre, che riproduce la partitocrazia all'interno degli organi della giustizia, che tra l'altro sono diventati, col caso Palamara, all'onore delle cronache negli ultimi anni, ma che di fatto poi non hanno prodotto quelle riforme che occorrerebbe fare. E quindi di nuovo abbiamo di fronte non il caso Crespi, ma il caso Italia, come diceva Pannella, il caso della mala giustizia italiana. E quindi ci piacerebbe, e a me piace, avere quest'occasione un po' tra di noi, serale, di presentazione del tuo libro che invito tutti a scaricare e a leggere per entrare nel merito di queste motivazioni. Perché magari qualcuno ascolta Marco e dice, ma figuriamoci se è possibile che per le parole ascoltate nelle intercettazioni qualcuno possa essere recluso per dodici o sei anni, privato della propria libertà, ci sarà dell'altro. Il cittadino medio magari ha questo riflesso. Invece la nostra esperienza, che è un'esperienza ormai decennale, ci dimostra che ovviamente non tutti i casi giudiziari finiscono come il caso Crespi, in alcuni casi la giustizia fa il suo corso e lo fa bene, ma in molti casi invece si finisce dentro delle maglie dalle quali è impossibile uscire, nemmeno se si è dei personaggi conosciuti. Perché quello che io ricordo sempre di Enzo Tortora è che diceva è successo a me che sono... Tortora quando fu arrestato era forse la persona più nota d'Italia, quindi la persona con la maggior visibilità, con le maggiori possibilità e malgrado questo fu condannato per reati gravissimi, non il concorso esterno che appunto è un reato di fatto inventato. Ricordo le bellissime e lunghe conversazioni tra Marco Pannella e Massimo Borbin proprio rispetto a queste fattispecie di reato. Però Tortora diceva è accaduto a me quanti Enzo Tortora senza nome ci sono oggi nelle galerie italiane e infatti poi lui dedicò gran parte della ultima parte della sua vita a andare nelle carceri, visitare le carceri e tentare di fare, di aprire le celle, aprirle nel senso metaforico per fare entrare gli occhi di chi immagina che le carceri siano delle ville dove vivono tutti serviti e riveriti. Mentre nella realtà anche la riforma del sistema calcerario, il ripristino della Costituzione utilizzando quello che la Costituzione dice, cioè il valore rieducativo della pena. Sono tutte cose belle, bellissime, scritte sulla carta che nella realtà dei fatti non solo non esistono ma sono il contrario perché chi entra in carcere sa che il carcere è la miglior scuola per diventare dei veri delinquenti se si entra non da delinquenti. Tutto questo è una storia politica che è la storia politica radicale, purtroppo piccola, purtroppo malandata ma comunque forte e resistente. Io chiederei a Gianni se vuole dire ancora qualcosa e poi c'è l'Avvocato Berni se ci vuole fare un quadro più giuridico del tema e benvenuto. Dimmi tu Gianni. Prima di Berni io volevo solo sottolineare due notizie che credo che giornalisticamente sono interessanti, prima ancora che giuridicamente. Nel primo grado il giudice raddoppia la pena chiesta dal pubblico ministero. Io non sono un esperto di diritto ma generalmente la cosa normale è che il giudice sta tra il pubblico ministero e l'Avvocato. Io credo che sia una notizia che c'è un giudice che di fronte al pubblico ministero di 16 anni, sapete che vi dico 12, ma nel terzo grado il pubblico ministero era per rifare il processo ed è il giudice che ha detto no, va bene così. Mi sembrano due cosine. Poi io adesso lascio la parola all'Avvocato Berni e poi tra poco vado perché un'altra aberrazione anticostituzionale mi costringe, cioè il coprifuoco. Anche noi, anche noi. Direi diamo la parola all'Avvocato Berni e poi a Marco Del Freo le conclusioni, conclusioni di questa serata, non della vicenda ovviamente. Io ringrazio l'amico Gianni che mi ha obbligato perché si è presentato a casa mia e mi ha detto facciamo questa diretta. È un tema a cui tengo molto, tant'è che mi sono prestato lo scorso giugno a coinvolgere mio zio Gaetano Berni, magistrato, primo caso in Italia nominato per altissimi meriti professionali, consigliere della corti Cassazione e sua eccellenza l'Avvocato Michele Saponano che sono venuti e hanno affrontato il problema del caso Crespi. Io però prima di questo e quella diretta ha avuto 40.000 visualizzazioni, cioè io non ho 40.000 contatti su Facebook, questo lo dico, o su un po' girata, ma 40.000 sono tantissimi. Il tema è, sono contento anche aver fatto una pagina web di quell'evento in cui ho ricordato un'immagine con un presidente americano di un amico, di una persona che ho conosciuto a casa di mio nonno Ferretti, che era questa medaglia della resistenza italiana che era il Galdosogno, poi processato in un processo da un PM che era Luciano Gionanti. Allora, questo qui, però questa è una altra storia. L'ho messo come monito, come anche l'immagine di Tortoli di Pannella. Questo lo dico da liberale e non da radicale, come come storia, come esperienza. Sono contento da liberare il mio piccolo e questo riconosciuto anche da Boeri nell'ultimo incontro pubblico che abbiamo fatto, un webinar sul Carci San Vittore, dove mi ha riconosciuto sia l'importanza del ruolo svolto nel Carci di Bollate con l'iniziativa in Carci, quindi con la ristorazione, la felamineria, eccetera, che è l'iniziativa che ho svolto nel mio piccolo disprono per restare nel Carci San Vittore, producendo l'arte, le stanze sospese e tante altre cose, nella speranza che quella che l'Italia diventi un paese democratico e di democrazia moderna. Perché entrare oggi a San Vittore non è un certo un bel esempio di civiltà giuridica. Io mi spiace, ma non lo siamo. Mi spiace, ma non lo siamo, lo dico. E che un ragazzino di 30 anni debba fare un ristorante per attivare un articolo 12 del codice presidenziale a cui nessuno aveva pensato, cioè per portare i carcerati in cucina a imparare a fare il pane e fare una fagnaneria in Carci di Bollate, è una cosa che gli dà vendetta. Dopo 50-60 anni di storia democratica. Lo dico sinceramente. Investendo dei soldi suoi, oltretutto. Che meno male li avevo, adesso non ne ho più. Io però ho detto, prima di che parlasse su eccedenza Ponara, che ha citato questo caso Palamara, che non conosco, non voglio entrare nella vicenda, provocati sia mio zio che su eccedenza Gaetano Berni che su eccedenza Vincenzo Saponara, ricordando, e questo lo voglio ricordare perché è centrale anche stasera, quello che ci hanno insegnato all'università, dobbiamo chiederci cosa sia coscienza. A questo punto si faceva riferimento a quello che George Frederick, noto come Novalis, e questo a me lo insegnò un mio professore di filosofia del diritto, che era Mario Cattaneo. In un suo libro protagonista, Ardick, richiede al vecchio medico Silvester di spiegargli cosa sia la natura della coscienza. Se fossi in grado, rispose Silvester, sarei Dio, perché nel momento in cui si comprende la coscienza questa nasce. La coscienza si manifesta in una serie di perfezioni, in ogni verità coltivata, ogni tendenza elaborata con la riflessione, verso una visione del mondo, diventa una manifestazione, una modificazione della coscienza. L'educazione conduce a ciò che non possiamo chiamare se non libertà. Eric Carlo conclude e chiede se la coscienza coincide con la morale e con la legione. Se la legione ha la capacità di poter giudicare. Silvester risponde che la coscienza è l'intermediario di ogni essere umano. Esta rappresenta la posizione di Dio sulla terra. La coscienza è l'essenza proprio dell'uomo e della sua piena trasfigurazione dell'uomo celeste e dell'uomo celeste originario. Questo per introdurre quello che poi viene fatto e introduce quello che viene fatta poi la virtù della pura esseria volontà, quindi Kant è il pensiero dell'umanista moderno e quindi il diritto penale come oggi lo conosciamo. Ma se devo pensare, questo per darla a fondo finale, se devo pensare a cos'è il diritto, lo ius per i romani, cioè non è il luogo, non è un qualcosa che acquisco quando nasco, ma è il luogo dove faccio valere un mio diritto, quindi in cui mi confronto, confronto le mie teorie, le mie tesi e affermo il mio diritto in questo e il luogo in cui faccio qualcosa, dove nasce il diritto e questo è il tribunale. Allora, se l'errore giudiziario può esserci, c'è, c'è stato. Io su questa, che è un caso, adesso io ho già citato Sogno, ho già citato Tortola, ho citato anche, se volete, se volete torniamo su un altro passaggio che mi odieranno, quelli che mi ascoltano adesso, che è Alessandro Manzoni, una storia da colonna infame, che dice testualmente, e che non cercavano una verità, ma volevano una confessione, che in questo caso non c'è stata. Non sapevano quanto vantaggio avrebbero avuto al fatto supposto. Volevano presto, volevano venire presto al dolore, che dava loro un vantaggio pronto e sicuro. Avevano furia. Cioè, la politica, signori miei, e questo è un altro tema, però abbiamo un tema più vasto, è immorale. E l'unica cosa che la rende, l'unica, è l'unica, è l'unica cosa che non la rende immorale, è la libertà che noi oggi, che noi esercitiamo con i tribunali, con le sentenze e con gli atti politici come quello che stiamo facendo oggi. Quindi ha senso urlare una grazia per questa sentenza. Grazie. Grazie mille all'Avvocato Berni, che ha anche introdotto la questione della grazia. Marco, vai pure, vai pure tu. No, io volevo dire, beh, a parte che chiedo, prima che scappi, di salutare anche lo zio. Ciao Gianni, ma salutami anche lo zio, sua eccellenza, che è una persona incredibile. Discutere con lui, ho imparato più in due ore. Molto innamorato il caso Crespi, è spiaciuto non fare il ricorso in Cassazione. Lui, ancora ho capito, si è innamorato dal punto di vista teorico della cosa. Comunque, salutamelo, ringraziarlo ancora, spero di conoscerlo di persona prima o poi. Scusate questa piccola disgressione personale, ma ogni tanto ci vuole. Marco, dacci un palo su quale può essere adesso il percorso da qui verso il futuro, sulla questione del capo. Allora, quello che c'è di fondamentale è il concetto della grazia. Anche qua, stiamo parlando molto di cose, cioè il fatto che non c'è più un ministero di grazia e giustizia, come è giusto, perché il potere di grazia c'è il Presidente e basta, quindi c'è il ministero della giustizia, che c'è un articolo 27 della Costituzione che dice perché mettiamo la gente in galera, che cosa serve, eccetera, eccetera, cos'è la pena, perché deve essere erogata e come deve essere vissuta dalla società da un lato e poi da chi deve scontare. E quindi qui arriviamo al caso di nuovo Crespi. Di nuovo, quando dicevo, un caso è veramente, c'è tutto dentro ed è della ragione per la quale è stata richiesta la grazia. Ammesso e non concesso che Ambrogio sia in qualche modo colpevole di questa cosa, che per inciso nella sentenza di appello, che è stata scritta, guarda caso, pare, io ammetto, mi hanno detto tutti che è così, però non sono andato a metterci il naso come faccio di solito, però sembra proprio che sia stata scritta da quel simpatico giudice che ultimamente ha avuto un problemino e ha chiesto un'aspettativa per entrare subito in pensione perché lasciava un po' di chiodi in giro, tanto per dire, no? Com'era la moglie di Cesare che deve anche sembrarlo, oltre che essere onesta. Comunque è quello lì che l'ha scritta, però l'ha scritta molto bene, mentre la prima non era scritta, era un tagliacuci di ogni genere tipo col procuratore. E nello scriverlo bene dice praticamente che Ambrogio è un bravo ragazzo. Ma lo dice davvero, c'è scritto? Perché ha fatto un mucchio di cose belle, ha fatto un mucchio di cose buone, il suo comportamento processuale è stato perfetto. Comunque ti do sei anni. Quindi, a me sono concesso che appunto Ambrogio abbia fatto questo che ha fatto. Un ultimo accenno su quello che ha fatto Ambrogio, scusate perché mi incavolo di nuovo, intercettazioni. Questi signori sono stati intercettati per una serie di reati molto di bassa lega, se vogliamo, hanno rubato del materiale di lizio, hanno tenuto chiuso per un po' un tizio di un comporore in una parte per fargli dare dei soldi, però hanno detto che erano dei grandi mafiosi, dei grandi personaggi. Uno, ma quello era già fuori perché era già in galera, ma tutti gli altri. Era roba veramente, nel libro mi viene in mente, ho cercato di fare un paragone tra il famoso bellissimo film di soliti ignoti e i personaggi di questa tragedia. In tutte le intercettazioni per anni e anni e anni, il nome di Ambrogio non salta mai fuori. Mai. Non esiste. Questi si parlano tra di loro, dicono cosa devono fare, le armi, portali qui, andiamo a rubare questo, picchiamo quello, facciamo questo. Ambrogio non c'è mai. Non esiste una sola telefonata fatta da Ambrogio a questi signori. Mai. E comunque Ambrogio finisce dentro. Ambrogio finisce dentro ed è di conseguenza un esempio di come anche l'articolo 27 della Costituzione, quello sul fatto che bisogna tendere al recupero, a riportare le persone dentro la società civile, eccetera, eccetera, è come al solito non considerato. Perché questo reato è stato commesso, sarebbe stato commesso nel 2010. Siamo nel 2021. Ambrogio, in questi 12 anni, ha fatto film contro la mafia, è andato a San Luca nel cuore dell'Andrangheta, ha fatto Spam, ha lavorato con la polizia, ha lavorato con i carabinieri, ha presentato i film in Parlamento, ne ha fatte queste cose, eccetera. Vogliamo dire che non è recuperato? Se davvero fosse quel bravo ragazzo che dice nella sentenza di appello, il giudice dice, però bacchettata te la meriti perché hai fatto una cavolata per breve tempo, dice, per brevi momenti. E cosa, lo penalizziamo di che? Cosa gli stiamo insegnando? A fare quello che sta facendo a 12 anni? Che ragione c'è per mettere uno come Ambrogio Crespi in galera adesso? E questa è la base della richiesta di grazia, per inciso. Perché chiaramente quella, la sentenza ci sta, eccetera. Dopodiché ci sono tutte le altre cose, c'è il fatto del poter andare a vedere se anche lì, cos'è l'articolo 47, che possa essere fermata all'esecuzione della pena per un po' di tempo, ci può essere una revisione del processo. Per inciso, c'è chi è convinto che avendo questo piccolo particolare del giudice che ha fatto la sentenza d'appello, avendo dimostrato di non essere esattamente la moglie di Cesare, c'è chi dice che già quello sia un motivo sufficiente per la revisione. E ci sono avvocati di nessuno tocchi caino, del partito radicale e anche terzi. Tenete presente, il capitano ultimo, quello che ha messo dentro Rina, eccetera, eccetera, ha partecipato e ha richiesto la grazia per Crespi e con lui l'Associazione dei Penalisti Italiani. Cioè, ma ci rendiamo conto che questa qui è proprio l'occasione in cui finalmente, naturalmente questo non può essere detto nella richiesta di grazia, Dio ce ne scampi, non lo faccio perché faccio parte del comitato, ma forse sarebbe il caso di far vedere che il concetto della grazia nelle mani del Presidente abbia un senso, perché qui sotto processo, tenendo dentro chi sta andando in galera, è la giustizia italiana, il come viene gestita. E di nuovo torno a ripetere, però, non ce l'ho né con i giudici, né con gli avvocati, né con i procuratori, ce l'ho con i signori politici e con noi italiani, che evidentemente non riusciamo a far sì che i politici facciano il loro mestiere. A UG. Marco, ti ringrazio moltissimo di queste parole, perché sei stato, secondo me, molto efficace a raccontare, nei poche decine di minuti, poi che ti è stato concesso in questo incontro, che di più non può durare, la vicenda e anche, siamo riusciti a raccontare qualcosina della mala giustizia italiana, e anche in quest'ultima parte, quale può essere un lieto fine, almeno per la vicenda Crespi, che sarebbe però anche un lieto fine, perché riconoscerebbe non solo la grazia Crespi, ma riconoscerebbe anche di fatto il fatto che è avvenuta sostanzialmente un'ingiustizia, se vogliamo. Ma scusami, perdonami se mi sedisco ancora, non voglio farlo più lungo ancora. Non è questo, no, sta dimostrando che c'è, ci potrebbe essere in questa fase storica italiana, se speriamo nel frattempo Draghi fa quello che, chi non lo so, quello che vuole, non mi frega niente la politica italiana, io sono americano, ormai non mi frega proprio niente tutto ciò, porca miseria, c'è il modo di far sì che la giustizia funzioni, utilizzando in questo momento lo strumento ultimo che è la grazia. Vogliamo capire che se stiamo usando la grazia è perché c'è qualcosa che non funziona prima? E' qualcosa che non funziona prima, sono le leggi, come sono scritte, perché la responsabilità penale personale, quindi se uno dice imbroglia, parlo quindi anche adesso dei giudici, degli avvocati, dei procuratori, dovrà essere punito in base a quella parte della giustizia. Ma altrimenti di che cosa stiamo parlando? Di che cosa stiamo parlando? Quindi non è questione secondo me di dire giustizia giusta, io odio aggiungere degli aggettivi di fare un po' perché diventa un po' pubblicitario, suona bene, è giusto farlo, però è la giustizia, cioè è il fatto se un sistema funziona o non funziona. Questo sistema continua a dimostrare come, quante sono voi che lo sapete sicuramente le condanne che ci becchiamo ogni giorno da Bruxelles e dalla Corte, cioè 3-4 ogni giorno, una roba del genere, quindi sono migliaia ogni anno, per come funziona la giustizia in Italia. I dati che ha riportato Draghi sul PIL, vogliamo fare soltanto i conti della serva, 1.6% in più di PIL, solo se noi sistemiamo il problema del diritto fallimentare. Ma ci rendiamo conto di che cosa vuol dire? Eliminare, non lo possiamo fare direttamente perché è anche in Costituzione, però trovare il modo, come sembra stiano trovando, di nullificare questa idiozia dell'obbligatorietà dell'azione penale, chiunque abbia fatto politica nei famosi anni del grande casino, come li chiamo io, sa benissimo come si fa a decidere chi deve giudicare una persona anziché un'altra, perché basta che venga registrato il reato in certo momento, perché esiste l'istituto del giudice naturale, che a quel punto avrai un giudice anziché un altro giudice, per esempio. Oppure basta semplicemente che il faldone continui ad essere spostato e sta sempre sotto. Dov'è l'obbligatorietà dell'azione penale? Santa Madonna. Scusate, continuo a arrabbiarmi, perché io ho preso il ceffone a mio padre per Valpreda, e continuo a arrabbiarmi, perché non è la questione di dire l'ha fatto o non l'ha fatto. Lì non c'è scritto, lì non ci sono le prove che dice che questo è stato fatto da quel signore lì. Non c'è, per Dio. Certo. Comunque l'ipocrisia dell'obbligatorietà dell'azione penale è qualcosa appunto sul quale puntiamo il dito, come dicevo prima, da decenni senza ottenere il risultato di una riforma che sarebbe, ma non sacrosanta, visto che è non sacrosanta, ma assolutamente dovuta. Io colgo l'occasione di nuovo per invitare tutti voi a scaricare il libro Il Caso Crespi di Marco Del Freo e di informarvi, di farvi un'idea. Dall'associazione. Specificalo, perché se no vanno a finire, perché lì ci sarà un problema. Quindi non su Amazon, perché lì ve lo fanno pagare, non si è ancora capito perché, ma si capirà, e poi vedremo la giustizia e come funziona. Dall'associazione Ambroggio Crespi, quindi andate lì, lì è gratuito. E si scarica gratuitamente, quindi potete leggerlo gratuitamente, così ciascuno di voi può farsi un'idea di questa vicenda che abbiamo cercato in questa ora e mezza, in questa ora di illustrarvi. Io ringrazio l'autore Marco Del Freo per la disponibilità. Penso che avremo modo di rivederci per seguire ancora la vicenda e vedere che cosa accadrà. Ringrazio Gianni Rubagotti, che adesso ci ha lasciati ed è tornato verso casa per non violare il coprifuoco dell'associazione Caprifuoco, ma roba verrà. Caprifuoco, tra virgolette, ovviamente. Ringrazio l'associazione radicale della Idaglietta che ospita me e Daniele De Giorgis che qua di fianco a me me ne vedete una mano, eccolo qua, che ha fatto la regia della nostra diretta su Facebook. Ringrazio voi che ci avete seguiti, l'avvocato Bernie e alla prossima iniziativa per seguire gli sviluppi del caso Crespi sperando appunto che l'Istituto della Grazia venga in questo caso utilizzato dal Presidente. Grazie ancora Marco Del Freo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.